Grazie Presidente, sull'ordine dei lavori, ho atteso il completamento delle interrogazioni. Mi è arrivata una segnalazione di cittadini preoccupati, non vedo in aula l'assessore Foroni quindi chiedo se tramite lei è raggiungibile oppure se tramite il sottosegretario si possono avere informazioni riguarda un incidente successo questa notte nella zona industriale di Tremona. C'è stato un forte voato, sirene che sono intervenuti, un incendio, i cittadini si sono preoccupati, non hanno avuto informazioni, l'ARPA è uscita alle 8 del mattino dopo che i cittadini hanno segnalato al numero di servizi di emergenza di protezione civile di Regione Lombardia l'incidente, sembra che ci sia stato un incendio, abbia preso fuoco, queste sono le prime informazioni che stanno arrivando da fondi giornalistiche e volevo chiedere se si potevano avere maggiori informazioni. Grazie. 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 Grazie.